Assessore Piero Veroni, l'arte che salva, miglior titolo, non si poteva dare a questa manifestazione? Sicuramente la Regione Marche ha voluto lanciare un duplice messaggio ai nostri concittadini e naturalmente anche a tutta l'Italia con queste sei grandi mostre che vogliono intanto dare un'immagine che dopo il terremoto, dopo quel drammatico sisma, le Marche stanno ripartendo e sono già ripartite e naturalmente poter valorizzare questo immenso patrimonio che sta nei territori colpiti con queste bellissime opere d'arte è un significato molto molto alto. Il secondo obiettivo è quello di promuovere tramite queste opere questi nostri paesaggi, questi nostri territori e soprattutto utilizzare in un periodo non estivo la possibilità di destagionalizzare la nostra Regione Marche dal punto di vista della promozione e dell'accoglienza turistica. L'arte che salva è una delle tre mostre del progetto più grande Mostrare le Marche, oggi inauguriamo questa di Loreto che appunto si chiama l'arte che salva, poi ce ne sarà una a Fermo ed una a Macerata. e l'arte che salva è un titolo che un po' vuole evocare quello che è successo nelle Marche, cioè il terremoto. Molte di queste opere esposte qui a Loreto, una quarantina di opere, molte di queste opere provengono da paesi terremotati, da Camerino, da Petriolo, da Mogliano, da Falerone, quindi paesi delle Marche che hanno sofferto a causa del terremoto. Quindi l'arte che salva è ovviamente l'arte che salva l'animo umano, perché molte di queste opere erano destinate alla conversione dell'animo e quindi al miglioramento della vita spirituale dell'umanità, ma in questo caso l'arte che salva è anche l'arte che salva l'immagine della Regione Marche dopo la catastrofe, dopo il terremoto. E in alcuni casi, diciamo, è anche l'arte che salva l'arte, visto che un'opera che abbiamo qui esposta a Loreto verrà restaurata proprio in mostra, quindi sarà un restauro in mostra, quindi in questo caso l'arte che salva l'arte. La mostra è una mostra incentrata sul tema della predicazione, i predicatori erano grandi comunicatori del passato, erano grandi rock star che erano in grado di riempire le piazze di popolo, di folla e coinvolgevano proprio, erano in grado di coinvolgere la popolazione non solo con la parola e i contenuti della predica, ma anche proprio con la gestualità. Professoressa Coltrinari, siamo nella quarta sezione di questa mostra e siamo proprio dietro San Nicola di Torrentino. Esatto, perché questa è una mostra che si occupa di predicatori e un ruolo fondamentale l'hanno avuto anche gli agostiniani. Le Marche, sappiamo che con San Nicola di Torrentino, hanno il primo santo dell'ordine agostiniano, canonizzato nel 1446 e sepolto nella Basilica di Torrentino. Qui, peraltro, questo è un bellissimo dipinto di Guercino, commissionato da un tolentinate, che è benaduce benadduci, che a Torrentino aveva anche una cappella con un dipinto di Guercino sempre all'interno di San Nicola e qui, diciamo un po' per i casi della storia, il dipinto è finito proprio al Museo di Loreto ed è veramente un caso, ma qui fortunato. L'immagine che ci parla della predicazione degli agostiniani mostra invece uno standardo processionale che rappresenta la Madonna del Soccorso, cioè la Madonna che viene a liberare un bambino che il diavolo si stava portando via. Il diavolo era arrivato proprio perché la madre del bambino aveva mandato questo povero piccolo al diavolo. Quindi un'immagine, diciamo, un po' popolareggiante, ma che serviva agli agostiniani per parlare di difesa dell'infanzia, quindi probabilmente anche un'immagine contro la pedofilia, e di battesimo da amministrare ai bambini il prima possibile per evitare appunto di dannare le loro anime. Grazie.